Comune e provincia, manovre per il dopo Brasiello, ai Serni a breve saranno nominati almeno due commissari, in via Berta in Pol per il Vertice Sorbo, sindaco di Venafro e Cardegna, primo cittadino di Frosolone. Atti sessuali con minore, parroco rinviato a giudizio, l'ex prete di Porto Cannone ha processo il 26 gennaio, i fatti contestati accaddero nel 2009 nei confronti di una ragazza che all'epoca aveva 13 anni. Autostrada, il centro-sinistra fa un passo indietro, il Consiglio regionale approva una mozione di Iorio che sospende lo scioglimento della società. Fusco Perrella accusa, a Palazzo Moffa non c'è democrazia, Corecom, Cimino attacca la maggioranza. Diritti dei disabili, nasce il Comitato a Isernia, nella frazione di Castel Romano è stata costituita un'associazione per garantire ai portatori di disabilità servizi e opportunità uguali agli altri. A tutto campo in diretta per il turno infrasettimanale, la trasmissione a partire dalle 14.40 su Telemolise e Radio Luna. Il Campobasso ospita la San Benedettese, Isernia e Agnone in Abruzzo contro Giulianova e Avezzano. Buon pomeriggio da Telemolise, lo avete sentito dai titoli, mentre a ore si attende la nomina di almeno un paio di commissari straordinari per la gestione del Comune di Isernia, in via aberta alla provincia si è già messa in moto la macchina organizzativa per eleggere il successore di Luigi Brasiello alla Presidenza. Due i favoriti, il sindaco di Venafro Sorbo e quello di Frosolone Cardegna. Ci spiega perché Enzo Di Gaetano. Il nuovo numero uno della provincia di Isernia verrà eletto entro 30 giorni dall'ufficializzazione della decadenza del sindaco presidente Luigi Brasiello. La legge dunque annuncia l'immediato ritorno al voto. Le elezioni ovviamente saranno ancora una volta di secondo grado, dunque voteranno consiglieri comunali e sindaci dei 52 comuni pentri. La cosiddetta legge del Rio prevede l'elezione del presidente entro 30 giorni dalla scadenza per fine del mandato, ovvero per decadenza o scioglimento anticipato, degli organi provinciali. In questo modo il conto alla rovescia per il ritorno alle urne scatterà non appena sarà certificata la decadenza di Brasiello da sindaco di Isernia, ufficializzazione attesa nelle prossime ore. Dunque la campagna elettorale è già cominciata. Il vertice di Palazzo San Francesco sarà commissariato, quindi il capologo Pentro è fuori dalla bagarre elettorale. Tuttavia restano favoriti i sindaci dei comuni più grandi, proprio grazie al sistema elettorale di secondo grado. Ma attenzione, il comma 60 della stessa legge del Rio specifica che sono elegibili a presidente della provincia i sindaci il cui mandato scada non prima di 18 mesi dalla data di svolgimento delle elezioni. Una clausola che accorcia la lista dei papabili. Ad esempio non potranno candidarsi i primi cittadini di Agnone e Capracotta, Michele Carosella nel primo caso e Antonio Monaco nel secondo. Hanno vinto le elezioni nel maggio 2011, dunque andranno a scadenza di mandato tra soli otto mesi. In questo modo sembrano due i favoriti, Antonio Sorbo di Venafro e Giovanni Cardegna di Frosolone, due sindaci numericamente forti e di area centro-sinistra. Comunque vada è chiaro che il centrodestra non sarà a guardare, magari provando a cavalcare l'onda seguite allo tsunami del comune di Sernia. In questo senso però fare previsioni appare ancora azzardato. Per ora di certo c'è che l'ente provinciale sarà guidato fino al voto dal vicepresidente Cristofaro Carrino. Il consiglio provinciale, come già annunciato, resta in carica, prevista solo la surroga del consigliere Sergio Sardelli, decaduto dalla carica di consigliere comunale di Sernia. Al suo posto il primo dei non eletti della stessa lista, Lidia Iocca, sindaco di Civitanova del Sannio. L'ex parroco di Portocannone, Don Marino Genova, è stato rinviato a giudizio con l'accusa di atti sessuali nei confronti di una minorenne. I fatti contestati risalgono al 2009, quando la ragazza che li ha denunciati aveva 13 anni. Intanto domani a Larino, su uno stralcio della vicenda, è prevista una nuova udienza. Sentiamo Manuela Iorio. L'ex parroco di Portocannone, Don Marino Genova, è stato rinviato a giudizio con l'accusa di atti sessuali su un minorenne e il processo per lui inizierà il 26 gennaio. Lo ha deciso il giudice di Larino Daniele Colucci, che ha accolto le richieste del pubblico ministero Luca Venturi, respingendo invece il proscioglimento chiesto dal difensore di Don Marino. La minore in questione è Giada Vitale, che per anni ha subito in silenzio le attenzioni morbose del parroco. Tutto è iniziato quando la bambina, oggi maggiorenne, aveva 13 anni e frequentava la parrocchia come tanti bimbi della sua età. Le violenze, stando ai racconti, sono andate avanti fino ai 16 anni, quando Giada finalmente ha trovato il coraggio di denunciare tutto. Parlando prima con il vescovo e poi, dopo qualche mese, era aprile del 2013, presentando una denuncia che ha fatto scattare le indagini. Il parroco, nel frattempo, era stato già costretto a lasciare la parrocchia su decisione del vescovo De Luca, che dopo aver raccolto una missione di responsabilità da parte di Don Marino, aveva disposto per lui la sospensione a Divinis. Pur restando sacerdote, non può più celebrare messa e somministrare i sacramenti. Il provvedimento è stato poi confermato anche dal Tribunale ecclesiastico. Oggi Don Marino, ormai sessantenne, vive in una struttura alle porte di Roma, in un regime di clausura per sua scelta. Intanto il percorso giudiziario è solo all'inizio ed è tutto in salita, perché domani è prevista all'Arino una nuova udienza preliminare sul caso. Il PM, infatti, ha stralciato la parte dell'inchiesta in cui Giada ha 14 anni. Secondo Venturi, infatti, dal momento in cui la ragazza non è più tredicenne e subentrato il consenso al rapporto sessuale, per cui per le presunte violenze consumate dai 14 ai 16 anni, chiederà l'archiviazione per Don Marino. Una tesi che verrà fortemente contestata in aula dall'avvocato Giovanna Moffa, difensore di Giada, che in questo momento sta vivendo un nuovo calvario. Emilio Cocco, ispettore superiore della mobile di Isernia, ieri ha perso tragicamente la vita ai piedi del santuario della dolorata Castelpetroso. Aveva 52 anni, lascia la moglie e due figlie. L'ispettore è morto a causa dell'esplosione di un colpo di pistola avvertito distintamente nei paraggi, ieri intorno alle 15 e 30. Tutto ha da chiarire la dinamica dell'accaduto, ma si propende per l'ipotesi del suicidio a mezzo della pistola di ordinanza. A ritrovare il corpo sarebbero stati alcuni colleghi allarmati dalla sua assenza. Conosciuto e stimato da tutti, amici e colleghi, per le qualità umane e l'abilità professionale, prestava servizio in pulizia dal 1983. Sconvolta la comunità isernina, che anche tramite i social network ha espresso la propria incredulità e il proprio cordoglio. E cambiamo argomento perché si riaccendono i riflettori sull'autostrada del Molise. Il Consiglio regionale ha approvato la mozione presentata dall'ex governatore Michele Iorio, che sospende lo scioglimento della società. Il centrosinistra ha fatto un passo indietro e ha votato la mozione, che di fatto riapre il dibattito sulla realizzazione della Termoli San Vittore. Sentiamo il servizio di Giovanni Minicozzi. Dopo la mozione presentata da Michele Iorio e approvata a maggioranza dal Consiglio regionale, che di fatto blocca la messa in liquidazione della società autostrada del Molise, si riapre la possibilità di realizzare il collegamento tirreno-adriatico. Il centrosinistra ha fatto un passo indietro rispetto ai propositi manifestati nei mesi scorsi, mentre il Movimento 5 Stelle ha ribadito la sua contrarietà. Io credo che sia un passaggio importante e fondamentale per questa storia legata alla realizzazione di un'infrastruttura che per il Molise è assolutamente necessaria, alla quale non possiamo rinunciare. Personalmente farò le battaglie necessarie a tutti i livelli, ma intanto è importante che il Consiglio all'unanimità abbia votato la mozione che di fatto chiede di verificare fino in fondo la possibilità di realizzare la liquidazione della società così come aveva chiesto l'ANAS. Ci troviamo di fronte a un problema molto grave perché la liquidazione della società verrebbe realizzata sulla base di un falso presupposto, e cioè non esistono i fondi pubblici. I fondi pubblici esistono ancora e aspettiamo che il governo si decida su questo argomento anche perché la legge di stabilità prevede la realizzabilità di questa infrastruttura. Quindi l'argomento è ancora vivo, è ancora sul tappeto, mi auguro che la giunta regionale questa volta non si faccia sfuggire questa opportunità, in ogni caso noi continueremo la battaglia. Il Movimento 5 Stelle ha votato contro la sua mozione e di fatto si ripropone un tema, quello dei costi del Consiglio di amministrazione della S.P.A. Ma i 5 Stelle sbagliano a mio giudizio a fare questa battaglia di retroguardia. Come può essere importante per l'interesse futuro, delle future generazioni, il costo di un Consiglio di amministrazione rispetto alla realizzazione di un'infrastruttura fondamentale? Io credo che siano pochi cittadini disposti a credere che collegarci con l'autostrada del Sole e l'Adriatica sia poco importante. Credo che da Termoli a Venafro tutti comprendano che per il Molise sarebbe una svolta, una reale svolta che apre tante grandi opportunità. Il passo indietro ora lo dovrà fare l'ANAS? Beh certo, l'ANAS lo dovrà fare, a mio giudizio esistono proprio i termini giuridici che peraltro il Presidente si è riservato di verificare in questi giorni per chiedere la liquidazione di una società realizzata con legge, con legge dello Stato. E il governo deve darsi una mossa per realizzare un obiettivo che è condiviso dal primo governo Berlusconi, dal governo Prodi, dal governo Berlusconi II, con il finanziamento all'epoca c'era il Ministro Fitto che operò il primo finanziamento reale. Poi c'è stato il governo Renzi che nella finanziaria ha ribadito la necessità di realizzare quest'opera. Io non so cosa dirà il governo adesso perché eventualmente ci vorrà ripensare. Io lo escludo, in ogni caso saremo molto attenti. Intanto la conferenza dei capigruppo ha deciso le date dei prossimi consigli regionali. Venerdì seduta dedicata a mozioni e interpellanze. Il 22 settembre, ha detto il Presidente dell'Assemblea Vincenzo Niro, l'Aula esaminerà in via prioritaria la proposta di referendum abrogativo sulle tribellazioni in mare per la ricerca di petrolio, sulla scorta di quanto deliberato dalla Conferenza delle Regioni. Le altre sedute del Consiglio ci saranno il 29 settembre, il 6 ottobre e il 13. Quest'ultima tratterà, tra gli altri argomenti, il rinnovo dell'Ufficio di Presidenza e delle commissioni consigliari. In Consiglio regionale non c'è democrazia. Il ruolo delle opposizioni è mortificato. Per questo ho ritirato gli atti presentati. È la denuncia forte della consigliera di centrodestra Angela Fusco Perrella. Sentiamo Tonino Danese. Dura presa di posizione della consigliera regionale di centrodestra Angela Fusco Perrella a Palazzo Moffa. Non c'è democrazia e la maggioranza ha un comportamento che mortifica il ruolo dell'opposizione, ha detto, un ruolo di controllo, monitoraggio e anche proposta che ci è stato dato dai cittadini. Non c'è democrazia perché non c'è il rispetto dei ruoli. Cioè la minoranza che ha prodotto fino ad oggi nei 107 consigli regionali che si sono tenuti la maggior parte degli atti amministrativi e legislativi non ne ha visto nessuno, si è discusso ma ha approvato anche dalla maggioranza, anche su temi importanti, su temi che riguardano persone, cittadini ma anche sviluppo di questa regione. Angela Fusco Perrella in apertura dei lavori dell'ultimo consiglio regionale ha ritirato quattro argomenti scritti per la discussione di cui era prima firmataria insieme ad altri consiglieri. Io gli atti li ho già ritirati, ho presentato anche una lettera ufficiale al Presidente, noi non produrremmo più atti che non siano discussi e per i quali non sia rispettato il nostro ruolo. Si è detta amareggiata e delusa la Fusco Perrella. È la prima volta che io mi trovo di fronte a questa situazione, eppure tutti sanno la mia lunga esperienza in questo consiglio regionale, cioè vedersi negato ma soprattutto sentire l'affermazione che per approvare determinati atti anche importanti occorre che noi chiediamo prima il parere della maggioranza. Questo non è possibile. Oggi non ci sarà nessuna interruzione di acqua nel comune di Termoli, così come comunicato inizialmente. I lavori previsti da Moliseacque per il momento sono stati rinviati a data da destinarsi su richiesta dell'amministrazione comunale, che ha anche chiesto all'azienda speciale di programmare e di far sapere con largo anticipo la prossima data prevista per l'intervento. E restiamo in argomento. No all'Egam dal forum dell'acqua pubblica di Isernia. Celeste Caranci ha chiesto al comune di Isernia di non aderire all'ente regionale che avrà il controllo delle sorgenti e delle reti idriche e fognarie dei comuni molisani. Una forte presa di posizione che dovrà essere tenuta in debita a considerazione dal commissario prefettizio che verrà nominato dal governo centrale. Sentiamo Enzo Di Gaetano. Un no netto e duro ad ogni ipotesi di adesione all'Egam da parte del comune di Isernia. La forte presa di posizione viene da Celeste Caranci, del forum dell'acqua pubblica, che chiede al comune di non aderire assolutamente al nuovo ente regionale. L'acqua è una risorsa pubblica e collettiva ed è un diritto non alienabile. Noi siamo qui per difendere innanzitutto quello che è stato il risultato del referendum di quattro anni fa, del 2011, che ha stabilito che i cittadini italiani, e in questo caso i cittadini molisani e Isernini, si sono pronunciati per l'acqua pubblica come bene comune. E vorremmo che fosse rispettata questa decisione. Ci sembra che le decisioni prese invece dal governo regionale di frattura del centro-sinistra con la legge regionale di qualche mese fa, che impone la costituzione di un nuovo ente a carattere regionale, l'Egam, vada in tutt'altro senso. Vada cioè nel senso dell'apertura ai privati, di alla possibilità, ai privati, di entrare nella gestione pratica di questo bene comune. Una grana in più per il commissario prefettizio che arriverà a Isernia e che avrà già il suo da fare per dare il via libera al bilancio. Noi chiediamo che il comune di Isernia, insieme ad altri 15 comuni delle province di Isernia e Campobasso, facciano ricorso al TAR, appunto contro la decisione di aderire a questo nuovo ente regionale e che invece si vada nel senso di rafforzare e di cambiare lo statuto di Moliseacque. Voglio ricordare ai cittadini molisani che noi abbiamo già un ente regionale che gestisce il patrimonio idrico della nostra regione. Andrebbe semplicemente cambiato nel suo statuto per dargli una direzione non privatistica pubblica difendendo quelle che sono le prerogative di un bene comune essenziale che è quello dell'acqua. La chiusura della prefettura di Isernia rischia di essere eccessivamente penalizzante per quei centri che già vivono una condizione di estrema fragilità del tessuto sociale e produttivo. Lo ha scritto l'euro parlamentare molisano Aldo Patriciello in una lettera al ministro dell'interno Angelino Alfano a seguito dell'annunciato taglio di 23 prefetture sul territorio nazionale. È inopportuno, ha continuato, rimuovere un importante presidio istituzionale in un periodo in cui la presenza dello Stato è ritenuta fortemente necessaria da parte dei cittadini. Patriciello ha espresso dubbi sui parametri alla base della decisione. Resta da valutare, ha concluso, il criterio in base al quale da un lato si è ritenuto di lasciare il Molise con una sola prefettura e dall'altro si è consentito a regioni come Umbria e Basilicata di mantenere entrambi i presidi istituzionali. Una palese ingiustizia dove sembra aver avuto la meglio il differente peso politico delle diverse entità territoriali. Far ripartire i consumi con nuovi investimenti e con il rinnovo dei contratti di lavoro. È la ricetta della Will che ha commentato i recenti dati Istat che parlano dell'aumento del PIL e del calo della disoccupazione. Ma non è così in Molise, ha dichiarato la segretaria regionale Tecla Boccardo, dove non si investe neppure un euro. La base produttiva del paese si è ristretta di oltre un quarto, ha proseguito, perché le imprese hanno smesso di investire ed il Molise, ha concluso la Boccardo, vive in un momento di difficoltà e di povertà dilagante, anche perché qui gli imprenditori coraggiosi se ne vedono pochi. E si è insediato il Corecom, il Comitato regionale per le comunicazioni, ma è subito polemica l'attacco frontale da parte del Consigliere nazionale dell'Ordine dei giornalisti Vincenzo Cimino, membro dello stesso Corecom. Sentiamo di cosa si tratta nel servizio di Anna Maria Di Matteo. Insediamento del Corecom, il Comitato regionale per le comunicazioni, all'insegna della polemica. A sollevarla Vincenzo Cimino, Consigliere nazionale dell'Ordine dei giornalisti, è membro del Corecom, secondo il quale sono state calpestate anche le più elementari regole della democrazia. Il Corecom è formato da tre persone. Questo organismo innanzitutto ha avuto un taglio nella finanziaria del 2015 del 10%, invece gli amici del Consiglio regionale non si sono tagliati niente. Il Corecom è formato da tre persone, pensate tre. Il centrosinistra si è eletto il presidente, il presidente poi ha eletto il vicepresidente e il vicepresidente si è eletto da solo. Quindi su tre persone si sono presi due cariche, quindi loro sono il Molise di tutti, sono del Partito Democratico e noi dicendo destra non siamo democratici. Il vicepresidente ha un ruolo di immagine, ha un ruolo di sostituzione per l'impedimento del presidente, ma qual è la molla che fa scappare la gente secondo lei? I soldi. C'è un'indennità superiore rispetto al semplice consigliere. Il Corecom è dunque operativo. Prima riunione il 6 ottobre e i temi nodi da affrontare sono particolarmente importanti per la categoria e per le aziende che lavorano nel settore della comunicazione. È molto propositivo il rapporto tra il Corecom e l'università. Cominceremo a lavorare con la Facoltà di Scienze della Comunicazione per il monitoraggio delle tv locali. Poi il regolamento sulla legge per editoria e soprattutto la legge 2009, quello sulla carta stampata, perché ha ancora un anno e mezzo di valore, ancora vigente per un anno e mezzo e quindi per gli ultimi fondi, perché è stata abrogata in base alla legge per l'editoria. Però nei dodicesimi le testate possono ancora percepire dei fondi in base alla vecchia legge. Diversi gli incendi divampati ieri in tutta la regione, dal Basso Molise fino all'Isernino. 100 ettari di bosco sono stati divorati da un ruogo che ha interessato l'area montana di tre comuni, Fornelli, Acquaviva, Disernia e Forlì del Sannio. Le fiamme si sono estese rapidamente. I vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre da terra e due Canadair. La forestale ha richiesto anche l'intervento di un elicottero. Alle operazioni di spegnimento durate diverse ore hanno contribuito anche gli operai stagionali della regione. La forestale di Isernia ha aperto un'indagine per stabilire la natura del ruogo e non si esclude il dolo. E nasce a Castelromano, frazione di Isernia, un comitato per tutelare i diritti dei disabili. Il nostro servizio sentiamo. Almeno a parole l'impegno della politica nel sociale è costante. Un giorno sì e l'altro pure vengono promessi aiuti e stanziamenti di fondi. Ma quando tocca passare i fatti scompaiono tutti. La dimostrazione pratica si è avuta a Castelromano, frazione di Isernia, dove è stato organizzato un incontro per ufficializzare la nascita di un comitato per la tutela dei diritti dei disabili, intitolato al Santissimo Salvatore. Nonostante i numerosi inviti, di rappresentanti istituzionali se ne sono visti davvero pochi. Ma i promotori dell'iniziativa non si sono di certo scoraggiati e si dicono pronti a condurre la loro battaglia di civiltà a ogni livello. È vero, siamo sfiduciati dalla politica, ha detto Angelo Patriarca, ideatore del comitato. Ma dobbiamo far capire con ogni mezzo che i disabili hanno bisogno assoluto di sostegno. Non possono vivere con nove euro al giorno. Sono pochi, specie se confrontati con i 40 euro giornalieri stanziati dall'Unione Europea per i migranti. All'apparenza può sembrare una disparità di trattamento, è il parere del Vescovo Monsignor Camillo Cibotti, ma in realtà non è così che si risolve la questione. I rifugiati hanno bisogno di aiuto e di solidarietà, ma è pur vero che la sensibilità mostrata nei loro confronti può e deve essere applicata anche ai disabili. L'auspicio del Vescovo della Diocesi di Sernia Venafro è che la Regione intervenga con legge e impegni concreti. Al di là dei fondi, ha concluso Monsignor Cibotti, è necessario dare sostegno ai disabili direttamente a casa, creare strutture riabilitative e studiare forme di affiancamento ai familiari. Sotto la spinta di Expo cresce dell'8% il valore delle esportazioni di prodotti agroalimentari italiani e tra questi le culture più diffuse in Molise, vino, ortofrutta fresca, olio di oliva, pasta e formaggi. Lo rende noto col diretti Molise sulla base dei dati Istat relativi al primo semestre del 2015, in occasione della Giornata dell'Agricoltura Italiana che si è svolta all'Esposizione Universale di Milano, dove per l'occasione sono arrivati anche centinaia di agricoltori molisani. Soddisfazione e grande successo per Vivi la tua città, l'iniziativa che ha animato le strade del capoluogo lo scorso fine settimana e che è stata organizzata dal Comune di Campobasso e dalla Confesercenti. Ci dice di più Valeria Farina. Un risultato notevole sotto gli occhi di tutti, così Salvatore Colagiovanni, assessore al commercio del Comune di Campobasso, ha definito la seconda edizione di Vivi la tua città, l'iniziativa che sabato scorso ha animato le strade del centro città. Un grande successo derivato dalla sinergia perfetta tra amministrazione comunale e Confesercenti, guidata quest'ultima da Pasquale Oriente. Un'iniziativa dal sapore sociale e sportivo e che soprattutto ha voluto dare il rilancio al commercio dei piccoli negozi di Campobasso, i quali oltretutto durante la serata di sabato hanno registrato un'impennata delle vendite. Vivi la tua città è stato un evento dunque all'insegna del divertimento, della musica, del ballo e del gusto, con spazi non solo riservati ai prodotti tipici locali ma anche ai celiaci e al vino. Un evento che è costato al Comune di Campobasso 12.000 euro con i restanti contributi economici degli sponsor e della Confesercenti che non hanno superato i 40.000. Vivi la tua città ha avuto oltre 35.000 persone a Campobasso che hanno visitato quella sera la nostra città. Non c'era nulla di cultura, è venuto a ribadirlo. Abbiamo molto da lavorare ancora sul commercio per poter riqualificare il microcommercio. Penso che quella sera abbiamo visto in maniera trasversale sociale, sport, attività produttive, partecipare e collaborare per far diventare ancora più magica Campobasso. Non è il programma della Giunta Battista questo, è solamente una delle tante giornate che dobbiamo sempre più rafforzare sul Campobasso. L'anno 21 prevediamo di risaltare ancora di più, di mettere in risalto ancora di più il commercio con altre iniziative, ma prima di arrivare alla dedizione 2016 avremo una serie di manifestazioni che vedremo a Natale, ma che vedremo anche nel periodo già da ottobre che interesseranno il centro di Campobasso e anche zone periferiche di Campobasso. L'amministrazione comunale fa sapere che sta già lavorando con idee e ipotesi ad un Natale Campobassano ricco di eventi. Saraggio Bastianici, il tutor di Rachele del Borrello, la ragazza di 21 anni di Montefalcone nel Sannio che domenica rappresenterà il Molise a Jesolo durante la finalissima della 76esima edizione di Miss Italia in diretta sulla 7. Rachele avrà il numero 22-33, le ragazze in gara. I tre giurati tutor sono Bastianici appunto e poi Claudio Amendola e Vladimir Luxuria. E fra poco al termine del nostro telegiornale avrà inizio la trasmissione a tutto campo, infatti nel pomeriggio ci sarà il turno infrasettimanale di Serie D. Il Campobasso ospita la San Benedettese. Allora per le novità ci colleghiamo in diretta con Gianni Bruno che è allo stadio Selvapiana. A te Gianni. Sì, c'è anche Gianni Bruno ma ci sono anch'io. Grazie Silvia. Dunque giornata estiva perché siamo praticamente 31 gradi e mezzo qui a Selvapiana quindi è una giornata assolutamente estiva, da mare possiamo dire, quindi difficile per ovvi motivi giocare a calcio. Il Campobasso dopo il pareggio di tre giorni fa sul terreno di gioco di Scoppito contro la Miternina affronta la San Benedettese che tre giorni fa ha vinto in casa. Campobasso che in classifica a quattro punti insieme al Chieti e proprio alla San Benedettese inseguono la squadra della Juventus Fano e del Monticelli che sono a punteggio pieno a sei. Vi possiamo già dare le formazioni delle squadre. Il Campobasso gioca con Capuano, Sant'Angeli, Rao, Censori, Gattari di Pasquale, Boldrini, Valentini, Bucchi, Todino e Alessandro. Ci sono due novità, anzi tre esattamente Censori a centrocampo, poi in difesa di Pasquale classe 96 che è stato preferito a Fusaro molto incerto domenica scorsa e poi c'è la novità Todino che a nostro avviso è l'unico che può dare un po' di inventiva al gioco rosso-blu. Fuori Dimas che parte dalla panchina sì con il numero 19. Per quel che riguarda la San Benedettese risponde con Cosimi, Montesi, Flavioni, Baroni, Salvatori, Lomasto, Titone, Sabatino, Bonvissuto, Perna e Pezzotti. L'allenatore è il signor Beoni. L'arbitro di questa gara il signor Meraviglia di Pistoia. Partita che inizierà tra circa 32 minuti, infatti siamo praticamente poco prima delle 14.30 rigorosamente in diretta e quindi il campo basso insegue il successo in questa giornata. Un brevissimo commento, un flash con Gianni Bruno. Tu l'hai visto anche tre giorni fa scoppito. Questa squadra aveva bisogno di qualche cambio? Sì, di cambi ne aveva bisogno e cambi ci sono stati. Sinceramente, devo dire la verità, mi sarei aspettato anche un cambio di Sant'Angele con un altro dei Terzini a disposizione. Per esempio abbiamo un Lenoci che è sempre un 96 oppure lo stesso Cianci, sempre un 96, che compare tra i panchinari, compare tra i panchinari anche il classe 98 Corbo. Invece, secondo l'interpretazione di Cappellacci c'era da cambiare al centro e quindi fuori Fusaro e dentro, attenzione, chi viene preferito un fuori quota, quale di Pasquale, che abbiamo visto molto bene nelle prime amichevoli stagionali. Allora, quindi fuori anche Dimas e Dimas in campo Todino. Todino che è un giocatore dotato di corsa, quindi evidentemente vuole far riposare Dimas Cappellacci che praticamente ha 50-60 minuti nelle gambe, non di più. La linea che può tornare a Silvio Antonio, potevi aggiungere qualcosa? No, perché qualcuno può essersi un attimo. È venuto Antonio, il nostro amico Antonio Di Tommaso, era soltanto un bacio per gli auguri di buon compleanno. Quindi lo ringrazio perché altrimenti poteva sembrare chissà che cosa. Abbiamo vissuto tutto in diretta. A te Silvia, ricordo l'appuntamento tra circa un quarto d'ora qui dallo Stadio Selvapiana, rigorosamente in diretta per a tutto campo. A voi la linea. Grazie Antonio Di Lallo, a cui rinnoviamo anche gli auguri di compleanno. Grazie a Gianni Bruno. Quindi l'appuntamento per un ricco pomeriggio all'insegna di questa partita per molti imperdibile. Grazie di averci seguito e buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti.